Il comune di Francavilla Fontana ritenta con un nuovo avviso esplorativo per il centro di carico intermodale, un'opera mai entrata in funzione per lo stoccaggio di prodotti oltrefrutticoli. L'amministrazione Denunzo ritenta ancora una volta di togliere dalle proprie spalle, dalla propria economia, il sito dell'intermodale. Il sito dell'intermodale che è sempre stato un centro di costo per la nostra economia. Questa volta c'è una novità rispetto alla scorsa volta, oltre alla locazione si trova anche l'alienazione, perché appunto possano accedere più aziende per quanto riguarda anche il concetto più ampio delle ZES. Per l'ex senatorio Prepio Curto sul centro di carico intermodale si registrerebbe ancora una falsa partenza. Per l'ex parlamentare la formulazione dell'articolo 3 dell'avviso inquieta non poco, in quanto non richiede il possesso di alcuni specifici requisiti in ordine ai contratti di appalto e di concessione, come pure per Curto è da scongiurare l'ipotesi di una vendita dell'intermodale a prezzo vile, in quanto l'area potrà soffrire dei benefici connessi alla zona economica speciale.